Benvenuti a un nuovo video di Minecraft, siamo tornati nel ristorante più buono di tutti e quest'oggi ho deciso che ci trasformiamo in un McDonald's perché McDonald's attirano un sacco di clienti e si è visto anche dalla fine quarantena che la gente è impazzita, è andata soltanto lì quindi anche noi ci attrezziamo e modifichiamo il nostro ristorante infatti quest'oggi abbiamo continuato un po' a giocare siamo pieni zeppi di soldi e investiamo tutto sulla produzione di carne e di animali di vari tipi nella stalla in modo da guadagnare un sacco che roba brutta, dobbiamo fare il ristorante vegano Stefano di moda mangio no raga ma porca miseria che roba brutta che appena ha visto non me l'aspettavo allora io faccio il lavoro brutto per ora esatto, pensaci tu qualcuno deve mettere a cuocere il tutto vado, vado io, vado io penso le fornaci mi sta chiedendo la carne eh sì, si inizia eh lo so, sto mettendo a cuocere ragazzi un attimino perché sono altri mi puoi sapere quanto costa l'upgrade per migliorare la fornace? eh, dove è, dove è, dove è? eh vedi abbiamo aperto il McDonald's subito che chiedono carne hai visto? hai visto? solo carne ebbene non si sta capendo nulla chi chiede le barbabietole nel momento in cui c'è la carne? è ovvio è ovvio allora, a patate e conti ce ne sono tante quindi pensiamo alla carne vediamo un po' ok sta cuocendo però è poca, eh ci vuole tanto ma le stai mettendo su tre fornaci diverse? ovviamente, Steph stiamo andando già al collasso ma c'è nel panico eh, infatti chiedono solo carne chiedo carne e barbabietole wow questo sistema qua di McDonald's ragazzi non sta portando è subito affallato però se noi riusciamo un attimino a servire un po' di clienti comunque arriviamo a 600 soldi e potenziamo subito le fornaci così la nostra produzione riesce ad essere veloce la prima regola di un fast food è preparare cibo veloce comunque esatto, io comunque e forse queste mucche dovrebbero essere anche radioattive per essere proprio un McDonald's noi siamo un po' meno fast ma almeno ci si prova ok ah, qui c'è altra carne 473 su 600 dai che siamo vicini mettiamo tutto a cuocere anche qui perfetto ma come? non gli piace più la carne? sapete lo spot del McDonald's e come funziona? no non lo vogliamo sapere, grazie no, hai campioncini spiego perché la robota è Love It perché poi magari qualcuno non lo sa e questa era una battuta di alto livello non possiamo traviare anche il McDonald's non facciamo pagare non l'abbiamo capito Feri? raga Feri l'ha capita dopo un minuto no, non l'ho capita dopo un minuto Steph, semplicemente ho evitato di commentare quindi evita di sviare il discorso Feri l'ha capita dopo un minuto no Steph, non l'ho capita dopo un minuto sono talmente brutta che non ho voluto parlare no, nessuno ci crede sappiamo tutti quanto poco capisce è così banale che era impossibile da non capire ma stai mandando ma non è vero era molto elaborato e io ne sto fornendo un sacco eh la sto mettendo a cuocere guarda quanto ce n'è raga mancano solo 30 30 cosa? ah i soldi per la fornace? questo è due hamburger chiede praticamente vabbè ok, mettiamo il limite ragazzi per favore una burger a testa esatto guarda quanto la manca aspettate che premo il bottone animals drop cooked meat oh 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 e direi direttamente già pronta quindi si che c'è frega delle fornaci posso allora le fornaci non le utilizziamo più Feri sei licenziata ragazzi si, le patate quelle non si cuosciano da sole ah si se spegni altri 300 in effetti si aia Feri sei licenziata sei stata automatizzata dai robot oh meglio sono felice meglio i robot molti delle persone lavorano meglio no però è vero no è davvero è così però ho detto che abbiamo dei punti di no veramente ci sono delle criticità in questi video che che non lo so dei grilli ogni tanto siamo veramente proprio guarda allora tieni la bistecca sai un libro che non ce li ha rinascita link in descrizione preordine su amazon primi in classifica bellissimo forza coprente tutti grazie ma ho visto che anche timeport il primo sta tornando è decimo di classifica ragazzi marco è proprio informato ragazzi io con i miei amici più stretti devo essere sempre stretto ragazzi 118 aia 118 attenti tutti allora metto le bistec cotte nelle casse ok ce n'è altra si sto rubando tutte le bistec ragazzi avete avuto caso quale tipo di carne chiedono di più tutti e due tutti e due la carne ovina ok allora però io ne ho vista tanto anche di manzo quindi boh ho potenziato la produzione mucche non si può potenziare ragazzi il bowl che ne spona più spesso non credo ogni tanto buongiorno buongiorno non ne ho idea qui non c'è magari qualcosa no vabbè stefo come sta andando la giornata lì come è è veramente una noia mortale ma mi piace un botto ragazzi si 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 qua non c'è più ossigeno ho già la bongola io ok perfetto pensate voi quelli che producono carne fanno inquinamenti e poi esportano con gli aerei che inquinano cioè è un disastro infatti è una cosa terribile ma il problema è chi chiede la carne altrimenti non ci sarebbe chi la produce esatto la pasta al pomodoro è così buona così tranquilla ha ragione Mark promuoviamo il mangiare solo pasta al pomodoro nel mondo come Mark esatto come Mark Mark è un esempio di vita grazie apprezzo ragazzi per lo sponsor prego 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 ci volevo ogni tanto è importante Marco ragazzi è un dietologo ormai ok ok perfetto questi poi li upgrade costano altri 150 direi che lasciamo proprio stare ma lo vedo la carne è sufficiente ormai o la situazione è grave ne abbiamo tanta no no siamo a posto siamo a posto bene abbiamo anche tanta nelle casse quindi suppongo che vada tutto bene un imprenditor non può mai dire che sono a posto bisogna sempre affridare quello che siamo Ferre perché stiamo a queste parti stavo guardando come va la situazione allora ho fatto un'aggiunta ho fatto un'aggiunta mamma mia la carne pure di pollo vabbè questo la chiede no questo chiede qua stiamo facendo veramente la differenza sì 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 qualcuno mi sostituisce che non c'ho più voglia di stare in fattoria guarda Steff io non sto più capendo nulla sto solo facendo avanti da due ore e probabilmente lo farò anche in casa dopo un po' di corsetta allora facciamo così la carne la barbabietola manca la bistecca ok perfetto perfetto comunque la barbabietola è incredibile come la chiedono sempre eh ma perché non possiamo non smettono sì sì la barbabietola con un po' di carne perfetta raga carne del pollo carne del pollo allora aspetta che qua c'è il pollo tieni una due siamo diventati lo spoglio sermano staga aia posso dirvi che lavorare in sto posto è faticoso ma io guardo a me la marci che sta diventando matto dovrebbe dirlo lui tieni il pollo ma io so sono avanti e indietro nella stalla io facendo pure lavoro più crudele io sto cercando di dare una mano a marci perché è davvero un disastro qua ma questo però fa capire che tutti lavorano sia davanti che dietro mi licenzio no stef no stef la catena se ne va lo so è finita la catena allora ciotole allora io voglio aggiungere qualcosa no marci potremmo comprare il libro le mele le mele son buone sono anche le mele eh si però non so da dove aspettate aspetta aggiungiamo i pesci sushi no i pesci no dai stef adesso sarà un casino abbiamo fatto una stella il primo sushi è il mcdonald's ma dopo tutti questi ingredienti solo una stella io direi solo una raga per arrivare a 5 stelle è peggio di animal crossing qua porca misera ci rimaniamo 800 ore aia aia siamo in un ristorante questo era un dissing ad animal crossing no no è la verità non era un dissing io ci sto provando ma ci passerò anni di vita cioè dissing solitamente è verità non si e beh esatto quindi allora allora boom boom ma io lo sapete che non capisco dove si sbloccano ecco le mele no stef basta allora stef allora eh chi troppo vuole non la stringe finchè la barca che poi non abbiamo neanche risbloccato le torte vi ricordate le torte no no le torte lasciano i lì tranquilli no no perché in pratica vi spiego quando siamo rientrati nella mappa era baggatissima non arrivavano più clienti quindi l'abbiamo resettata non era baggata la gente non voleva più venire a mangiare da noi perché forse le torte facevano schifo e Marci categoricamente non ha più voluto le torte quindi no no io le torte non le voglio ma ma neanche sentirle raga no no sono d'accordo anche io però cioè io sono d'accordo con Marci questa volta le torte no stiamo per riempire la cesta allora facciamo gli upgrade questi costano poco ne approfittiamo ma perché chiedete sempre il bowl di barbabietola solo quello chiedo va di moda è come il sushi io ho provato ad aggiungere le mele sai una mela al giorno toglie Marche di Torno però niente è come il bubble tea sono quelle cose che vanno di moda come il bubble tea vanno di moda questo è il bubble barbabietola e va di moda quello non ci possiamo fare nulla ragazzi dobbiamo seguire i trend raga ma avete mai visto le mele crescere da 10 spugno? sì tutti i giorni e qua va in questo modo vi posso dire che va in questo modo i pesci sono già cotti? sì ah bello merluzzo cotto nessuno chiede pesce? no sushi McDonald's flop? no il Mcfish non va ma fatti che il Mcfish allora questo qui non abbiamo pollo? è vero Mcfish è andato male volevo fare sto cliente ma non abbiamo pollo arriva pollo arriva e non c'è più nessuno che lavora lì fare no no aggiungo anche il grano così chiedono anche il pane ok no no se n'è andato? il pane è caldo io non posso ah ok per fortuna allora bene facciamo anche il pane ok bene li aumento la produzione così è gestibilissimo no? se il Mcdonald fosse mano e quest'ora sarebbe sulla luna questo stiamo andando velocissimi mamma mia sì sì allora 120 upgrade ancora il pesce il primo Mcfish oh allora coltura lo vuole il pesce meno male dopo che mi hai messo il pane che senso ha? come il Mcfish penso di essere l'unica persona al mondo che al Mcdonald lo ordina opla e molto spesso non c'è mai perché non lo ordina nessuno però si chiama fillet o fish non lo vuole in genere eh sì non mi ricordo il nome preciso però è molto buono sì ma infatti non c'è non lo puoi comprare perché nessuno lo vuole esatto io ogni volta ogni volta cerco di ordinarlo mi dicono ah no però non c'è io va bene allora non aggiungo i funghi perché ci creerebbero un problema gigantesco no? sì perché devi farla la ciotola di funghi esatto già chiedono solo ciotole di barbara ma basta basta non ci sono mai ciotoli però potremmo mettere ah che tragedia che vuole questo? pane da quando è che abbiamo il pane ragazzi? da quanto è che abbiamo il pane? da poco da poco è nelle ceste ok ma dove lo prendi? ah facendo il grano ok raga le mele ancora nessuno me le ha chiesto io continuo a prenderne che fastidiose che sono da prendere le mele sì veramente un sacco perché sono così? allora perfetto allora ok ci mancano pochi potenzialmente a diventare un ristorantino da due stelle ed è una cosa molto bella due stelle Michelin ragazzi alla fine quindi sto cercando di capire potremmo fare questo che costa poco la prima mela la mc apple questo la mela mc donald c'è è vero è vero sì hai ragione ma sbagliate o stiamo guadagnando relativamente poco comunque sì ma veramente anche secondo me mi sembriamo un po' stanziati ti spiego perché stanno pagando il brand il franchise stiamo pagando io rimango qui a farmare un po' di shot dobbiamo diventare magari qualcosa altro un burger king vai switch raga ma no no dovremmo trovare qualcosa di originale forse è per quello facciamo KFC raga il champion king bello mi piace il champion king allora deposita 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 perfetto allora abbiamo 81 soldini potremmo aggiungere per la felicità di Mark i conigli anche i maiali ma i conigli no neanche i maiali ma neanche tutti gli animali fai i burger di soia Steph non li compra nessuno io li compro raga due stelle oh bello siamo tanto veloci eh tieni la mela si 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 raga questo vuole già la carne di coniglio è il quarto magazzino che fa fa venire allora pesci no la carne di maiale chiede tieni tieni il pane ci pensa il signor Mark Steph subito carne di coniglio e di maiale hai visto che ha tirato un sacco di clientela ragazzi i pesci si rifiutano di spawnare aia protestano già subito così si si sono scomparsi dal posto mi dispiace niente pesci eh avvisate la clientela manca solo che fanno pure le proteste allora ok perfetto vado a depositare un pochino carne di poio è un bel problema perché pesci contendiamo perché non ci sono più pesci non lo so proviamo a migliorarlo a fare l'upgrade eh si appena abbiamo i soldi penso sia l'unico modo fare l'ha premuto anche se non avevamo i soldi non so dove sono i soldi dove li vedo fare è la tua barra dell'esperienza come fai a notare questi piccoli dettagli molto importanti fare ah è perché siamo così poveri mi sembrava strano essere così poveri eh no invece lo siamo 100 tondi vai pesci pesci freschi dovete tornare pesce fresco guarda eh beh sono solamente due stelle che fa così secondo me i pesci sono dall'altra parte mercante marci sono scomparsi i pesci no come no c'è il pesce guarda è sponato? gigante l'abbiamo fatto tornare yeah tornato si raga era enorme era grande quanto tutto l'acquario sono quasi spaventato devo essere sincero sembrava uno squalo anche io ho avuto una paura porca miseria sembrava uno squalo uno squalo eh si ma dove la pesce ragazzi con una torta di mele no come si fa la torta di mele questa è la di zucca questa qua ragazzi è la torta di zucca è la torta di zucca ah di zucca non è di mele? raga ce li avete i craft in questa versione forza verona mi aspettavo tornassero alle torte questa è una criticità ragazzi eh allora vediamo un po' potrebbe essere problematico io ho smesso di sentirmi marci parlare zucchero uova e la zucca vabbè molto semplice dai zucchero uova e zucca? no ma io lo zucchero non l'ho sbloccato perché ci chiede? eh ma l'ho pagato? ah è colpa mia sì questo qua ho sbagliato è un danno sì la mia regola era non pago lo zucchero ho pagato lo zucchero raga e le uova le uova ce le abbiamo sì le mele siamo senza mele raga eh tieni ce li ho io primo cliente che se ne è andato raga dopo un botto no no allora sto pensando a come far lo zucchero raga siamo a 189 ordini stiamo lavorando come dei ma zucchero uova eh dove sono le zucche però? eh ce ne spona una no di nuovo raga zucca chiede ah problema ce ne sono sei di zucche però no? non bastano? no? eh sì penso di sì se riesco a farla aspetta allora eccole qua sì dovrebbe bastare aspetta opla così opla opla e così alpo alpo perfetto allora ho fatto tre torte chi è che la vuole? tieni uh era arancione ok allora mamma mia che dramma questi ok ok dai ci siamo iniziare ad avere crafting lenti eh eh beh inizia a diventare difficile è tosta forse dovremmo tryhardare un pochino nessuno ha detto che gestire un'attività è semplice eh sì ma qua ci vuole più gente porca miseria sì ci servivano 15 dipendenti direi penso se giochi a sola sta mappa sì vabbè facciamo lo zucchero questo è per marci cosa? sto farmando l'oro bello fa la carota d'oro che bomba esatto bravissima hai capito subito aiuto quella foglia d'oro in genere si fa la carota d'oro io ragazzi mimo 20.000 euro eh anche secondo me un po' caro però no no ma scusami è quello oggetto lì che deve fare la differenza eh sì è game changer raga allora serve coniglio tantissimo e maiale e scusate maiale e pesce 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 ma il pesce hai detto che ce n'era un sacco eh l'ho finito di colpo hai fatto una pubblicità ha ragione Ferre uno squallo il pesce ormai eh te l'ho detto ho paura le hai poi ritratto un pesce ok questo vuole una torta di nuovo aspetta le sto facendo le sto facendo ok ok sì sì te le lascio fare a te le torte ok sì perché sennò diventi maco Ferre è la pasticcera ho trovato il mio compito ecco un'altra torta bello ho fatto tutte le torte perfetto il problema è che le zucche sono molto meno rispetto allo zucchero e le uova cioè le prendi molto più facilmente quindi sono sempre sono sempre a corto di zucchero è anche lo zucchero Steph eh lo so andrebbe andrebbe migliorato perché allora le uova sono tantissime non è un problema lo zucchero e le zucche ok raga ci serve il coniglietto però eh Mark qua boh tieni la torta che ne ho fatto un po' allora eh allora eh comportatevi bene dico io se questo locale sta andando bene grazie a me no dovevi dire se questo video arriva a e non è contenuto la frase eh no se questo video arriva a 210 ordini chiudiamo il video quindi ci fermiamo così no mi stavo divertendo fai altri iscriviti al canale campanellina e questo ristorante è bellissimo ciao ciao ciao